Arte con Casnews, tre news sul mondo dell'arte, finalmente in tutte le librerie il mio libro, Professione Arte. Francis Brecon manda i matti, lo dice una ricerca scientifica. La terza Arte con Casnews, ancora falsi nel mondo dell'arte, arrestati due collezionisti russi. Iniziamo subito, 28 gennaio 2020, finalmente ci siamo, domani esce in tutte le librerie il mio terzo libro, Professione Arte, la prima guida per chi dell'arte vuole fare la sua professione e anche questa volta faccio un tour in tutta Italia per presentare il libro. E sì, anche nel 2020 andrò inoltre 10 città italiane per presentare Professione Arte, la guida per esplorare l'intero sistema dell'arte, perché per essere un artista, collezionista o professionista di successo è fondamentale conoscere i protagonisti e le dinamiche che regolano questo mercato. Insieme a me, tanti amici e professionisti del mondo dell'arte. Domani a Milano, presso la libreria Oepli, ci sarà Italo Carli, assicuratore Fine Art e la curatrice Carolin Corbetta. Tanti appuntamenti davvero imperdibili per scoprire Professione Arte e conoscerci dal vivo. Vi aspetto. Seconda, Arte Concast News. Che le straordinarie opere di Francis Bacon siano di grande impatto non c'è dubbio, ma che addirittura la neuroscienza dimostri che provocano uno shock in chi le osserva è ancora più interessante. Un gruppo di neuroscienziati e storici dell'arte hanno studiato l'impatto che l'osservazione delle opere di Bacon ha sul cervello di un campione consistente di uomini e donne. Hanno così dimostrato che l'artista ha trasmesso sulle sue tele un vero e proprio assalto al suo sistema nervoso. Quelle esperienze che lo hanno in qualche modo segnato. Questo assalto poi si ripercuota nel cervello dello spettatore che rimane così scioccato. La ricerca dimostra così come l'arte possa essere realmente un mezzo potente per trasmettere emozioni formative. Terza e ultima Arte Concast News. Che la due diligence e la provenance per un collezionista siano importanti non c'è dubbio, ma quando a non farle è un museo, proprio in occasione di prestiti in entrata per una mostra è ancora più grave. Questo è quanto è avvenuto per il Museo of Fine Art di Ghent. Infatti il Museo Belga nel 2017 ha presentato una mostra dedicata alle vanguardie russi, dove sono state esposte ben 24 opere provenienti da due collezionisti privati, Igor e Holger Toporovoski. Sono bastati però gli occhi attenti di curatori, studiosi e dealer, per scoprire l'inganno sul presunte opere di artisti come Melivich o Kandinsky. In più il museo non è riuscito a rendere conto sulla provenienza dei pezzi. Il tutto ha portato ora all'arresto di due collezionisti, rei di aver ingannato il museo. D'Arte Concast News è tutto, vi aspetto domani a Milano per la presentazione del libro. A voi un'ottima e grande settimana d'arte.